Ok, hai un incredibile prodotto o un'idea brillante, che in questo momento però nessuno conosce e vorresti vederla decollare insieme ai tuoi affari, proprio come un missile nel cielo. Ma non sai da dove cominciare, eh? Creare un sito web con testi e rappresentazioni grafiche rappresenta sicuramente un primo passo verso questa direzione. Ma potrebbe non essere abbastanza, perché le persone oggigiorno non hanno il tempo per fermarsi a leggere. E poi tutti adesso amano guardare i video. Little Lamb creerà per te incredibili video animali, proprio come questo che stai vedendo. E ti permetterà di catturare rapidamente l'attenzione di chi li guarda, facendo aumentare così i tuoi rapporti lavorativi. Ma quanto sono efficaci questi video? Il 90% delle informazioni trasmesse al cervello sono di tipo visive e vengono processate fino a 60.000 volte più velocemente rispetto a un testo scritto. Per questi visitatori di un sito ci trascorrono più tempo quando è presente un filmato. I video animati aiutano a incrementare la visibilità della compagnia e a rendere l'immagine dell'attività dinamica, professionale e facile da condividere sui social network. Dopotutto non importa se la tua compagnia ha le prime armi o è una grande impresa. Il video animato è comunque grandioso per raggiungere le masse e presentare prodotti e servizi in un minuto o in pochi secondi. Inserisci facilmente il tuo nuovo video nella home page del tuo sito internet. Caricalo su YouTube e altri social, oppure spediscero per email. La scelta è solo tua. Lasciaci essere la tua arma segreta. Noi creeremo per te il miglior video sul web che ti rappresenti. Contattaci per saperne di più, anche oggi stesso.